e ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche ok ragazzi ci siamo con questo bellissimo gioco redair games ringraziamo redair game per averci dato questo bellissimo gioco ok allora vado avanti da questa parte qua e voli wow davvero bellissimo pizzellato tutto quanto andiamo un po cosa dobbiamo fare ok usciamo fuori wow davvero bello perché è anche un gioco che potete giocarci in ok dobbiamo andare a prendere qualcosa adesso vado a vedere qua dentro se magari ne vedo che è insata no non me la fa neanche aprire abbiamo raccolto due devono essere qualche cosa fiori o non si riesce a capire perché è pizzellato perciò ok possiamo andare in giro e cercare quello che troviamo in giro da prendere no questo non lo possiamo prendere ah ok si può guardare guardate come piccolino sto girando intorno ok era tipo una torre per sto andando dovrebbe essere la città sì è la città up. Sì la parte dove possiamo fare noi le cose Non si può entrare di qua Allora ragazzi abbiamo visto questo gioco qua L'abbiamo visto per un po' Per vedere un po' com'è Vi ricordo che questo lo troverete su Twitch Perché andremo Oh vediamo qua cosa c'è Oh la galline Due Oh ok Non me le ha date però Vediamo un attimo se mi... Ok ragazzi allora vi ringrazio di essere stati qua Ringrazio Raider Games per averci dato questo stupendo gioco che continueremo su Twitch E con questo è tutto amici Nintendari Alla prossima Ciao amici Nintendari 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 Ciao amici Nintendari